Nel 2018 in Calabria sono stati diagnosticati 10.350 nuovi casi di tumore, 5.850 per gli uomini, 4.500 per le donne, 100 in meno rispetto al 2017. Per la prima volta dunque nella regione si è registrato un calo delle nuove diagnosi tumorali, un dato che però riguarda solo le donne per le quali c'è stata una flessione nelle diagnosi di 300 tumori, mentre per gli uomini il dato non è altrettanto positivo, visto che le diagnosi tumorali sono aumentate di 200. I dati sull'incidenza in Calabria delle patologie tumorali sono contenuti nel volume I numeri del cancro in Italia 2018, realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall'Associazione Italiana Registro Tumori, da Fondazione Aium e Passi, presentato a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa presso l'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Il tumore più frequente in Calabria è quello del colon retto, seguono poi il cancro della mammella e della prostata. Quello che incide molto nella diagnosi di un tumore, ha spiegato Vito Barbieri, coordinatore di Aium Calabria, sono la prevenzione e lo stile di vita di una persona. Se pensiamo che il cancro più diffuso è quello del colon retto, è comprensibile che questo può dipendere dalla nostra alimentazione. E c'è poi il discorso degli screening, che nei pazienti di sesso maschile non sono molto frequenti come per le donne. Oltre il 40% delle diagnosi in Calabria sarebbe evitabile seguendo uno stile di vita sano. I calabresi però, secondo l'analisi del volume, sembrano ignorare tale stile di vita. Il 46,1% è sedentario, il 33,6% in sovrappeso e il 13% obeso, invece inferiore rispetto alla media nazionale il tasso dei fumatori. In Calabria più di 80.000 cittadini vivono dopo la scoperta della malattia. Un dato che, secondo gli esperti, è in costante aumento. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge il 63% fra le donne, mentre raggiunge il 54% fra gli uomini, percentuali in linea con la media nazionale. I dati contenuti nel registro provengono tutti dal monitoraggio territoriale. Un dato significativo, ha sottolineato Antonella Sardo, responsabile per il servizio epidemiologia dell'ASP di Catanzaro, riguarda l'incidenza delle neoplasie fra le donne in Calabria, che è la più bassa d'Italia. Lo screening per il cancro del colon retto è stato attivato in quattro ASP calabresi in tempi diversi a partire dal 2008. Nella regione, l'adesione ai programmi di screening organizzati è ancora scarsa e per questo dovrebbe essere sbloccata quanto prima la loro unificazione. In Calabria, solo il 34,6% delle donne ha effettuato la mammografia. Il 31 ha eseguito il pap test per la diagnosi iniziale del tumore del collo dell'utero e solo il 24% dei calabresi si è sottoposto al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon retto. L'incremento della mortalità può essere ricondotto quindi alla scarsa adesione a questi esami. I nostri oncologi possono fare tutto quello che si fa in altri centri, ma questo non è possibile se si arriva alla scoperta del cancro quando è in fase avanzata. La sanità nella nostra regione sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione. Fra i punti chiavi la realizzazione di un'indica azienda sanitaria nella città di Catanzaro, ha affermato Antonio Belcastro, direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e l'avvio effettivo della rete oncologica regionale, che permetterà di porre un freno anche al grave problema delle migrazioni sanitarie. Non possiamo cancellarla perché ognuno è libero di scegliere dove curarsi, ma certamente dobbiamo ridurre la spesa della migrazione.